Oggi programmino speciale, come al solito intorno al mio compleanno questo è un tema fisso, ma è un tema fisso un po' della mia vita. Dico così perché andiamo a visitare la sede centrale della LingQ. Mio Dio, è vera, è cioccolata. No, potrei piangere, potrei piangere sul serio l'indoor, ok? Degustazione gratuita. Posso prendere tutti l'indoor che voglia, sebellitemi qui.